Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro con il cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro Ospite del Benvenuti a una nuova puntata Abbiamo ospito un giovane cantautore Michele Bisio La prima domanda che ci sordi spontanea Che prima cosa Bisio non è il comico Ma il cantante Ed è un altro personaggio Se tu vessi descrivere chi è Bisio per chi non ti conosce Come lo descriveresti? Diciamo io ho fatto una scelta Forse un po' contro tendenza ai giorni d'oggi Però non ho voluto prendere nessun nome d'arte per la mia carriera artistica Perché credo fortemente che quello che scrivo sia parte di quello che vivo E quindi di conseguenza diciamo il mio Cioè poi sicuramente un personaggio si crea col passare del tempo Ma un personaggio alla fine lo ricopriamo Abbiamo maschere un po' ovunque Però alla fine crearne un'altra ulteriore mi sembrava eccessivo E poi siccome faccio un genere che è tra diciamo l'indie pop e il cantautorato E essendo io genovese Quindi venendo comunque da una tradizione cantautorale Ho insomma deciso di tenere il mio nome e il mio cognome Quindi sì, Michele Bisio Parliamo intanto dell'ultimo singolo, Biglie Quando nasce questo brand, la cosa tra l'ispirazione Come si sviluppa poi? Assolutamente Biglie è appunto il primo tassello di un nuovo progetto Che uscirà a novembre E quindi un disco prodotto da Zibba Col quale ho iniziato a collaborare da aprile più o meno E insieme quindi abbiamo scritto Cioè mi ha aiutato a produrre e appunto a comporre Cinque brani E Biglie è il primo singolo estratto appunto da questo lavoro È un featuring perché nasce così Appunto Erano intorno al ponte del 25 aprile Quindi scorso Ero con qualche amico al mare E ci siamo ritrovati Siccome era brutto tempo Non erano ottime giornate Però ci siamo ritrovati a giocare a Biglie sulla spiaggia E oltre a questo fatto Erano giorni in cui appunto ci siamo trovati a discutere Perché uno dei miei amici che era lì Aveva in mente di aprire una start-up O comunque così si parlava Sai quando si fanno le chiacchiere tra amici Insomma ci siamo messi a discutere di come l'economia in generale In senso lato Sia una cosa che abbia un po' una doppia faccia Cioè nel senso comune è una materia Vista un po' male Cioè qualsiasi cosa abbia a che fare con un guadagno Con insomma un lavoro che Sembra un lucrare su le vite altrui Un po' in generale C'è un po' questo sentimento comune Non so se lo senti anche tu o se ne hai presente Però ecco quindi questo era un lato negativo Poi ci siamo accorti che in realtà Economia è anche diciamo L'economia delle piccolissime cose Cioè esiste economia persino quando appunto Devi decidere non lo so La tua nel mio caso faccio l'università Quindi devo decidere gli esami da fare Ho bisogno di progettare un minimo Non so il mio calendario Oppure stare un attimo attento ai miei guadagni Insomma Nelle piccolissime cose c'è economia Dopo questi giorni con i miei amici Mi sono messo a scrivere Di questi giorni È uscito un testo Che proprio vedeva alla fine Questa partita di biglie Come se fosse una metafora Dell'economia Mi serviva però una seconda strofa Diciamo io ho scritto un ritornello E una prima strofa Che parlava diciamo Di una dimensione positiva dell'economia Che mi veniva meglio Siccome non ho una penna Particolarmente tagliente Ho chiesto una mano Ad un amico Che si chiama Ben In arte Ben Lui è un rapper genovese E lui appunto mi ha regalato Questa seconda strofa Che invece ha un tono decisamente Un po' più politico e tagliente Però appunto è uscito un ottimo Ci siamo incastrati molto bene Lui si è subito Inserito nella dinamica del pezzo Tanto più che è un pezzo Appunto dalle sonorità reg Quindi lui fa un genere Che tende a quelle Appunto a queste sonorità E quindi gli è risultato sicuramente Cioè a me è risultato immediato Pensare a lui E a lui è risultato facile Imedesimarsi nel pezzo E poi in questo momento Nel 2003 era già uscito un EP Che è caloidoscopici Che poi andrà a seguire Poi tu navighi un pochettino E hai detto effettivamente di generi È vero che sei canto autorale Ma dai più ritmi Più generi Nello stesso stile lavorativo Ma dai più caratteristiche Al tuo sonare Cioè a dar vita alla tua musica Sì sì Questo sicuramente Caloidoscopici È diciamo il mio primo progetto Un po' più Compiuto È un disco che è uscito appunto A ottobre scorso Quindi quasi neanche Sì un anno fa Il 13 ottobre Del 2023 è uscito E Per quel disco Diciamo Gli arrangiamenti Sono venuti molto spontanei Cioè anzi Quasi non ci sono Nel senso che Con È un disco che abbiamo registrato Con la mia band Però non ci siamo mai messi lì A pensare Come effettivamente Far suonare il pezzo È un lavoro che Quindi è nato Diciamo abbiamo deciso Bene Registriamo i pezzi E poi con il produttore Di allora Ci siamo un po' messi a Diciamo Confezionare il tutto Però a cose già fatte Quindi Sicuramente il lavoro Di Questo nuovo lavoro Con Ziba Che appunto Non c'è nulla da nascondere È un lavoro Compiuto E In cui sento sicuramente Più Più coesione Tra i brani Non che Caleidoscopici Cioè Non rinnego Caleidoscopici Ha fatto È un passo molto importante Cioè Per me molto Importante A cui sono molto legato Però Così Invece la copertina Di Biglie Nella sua semplicità Chi nasce Quest'idea Allora Allora la copertina È parte Del progetto grafico Diciamo Dell'intero disco Perché Diciamo I pezzi sono cinque Per ogni pezzo Ho individuato Un oggetto E Siccome appunto Il disco Si chiama Non c'è nulla da nascondere L'idea è Se Se hai davanti la copertina Non lo so Però Nella copertina C'è Di biglie C'è un disco Arancione In sostanza Che copre Le biglie Quindi Per ogni oggetto Del disco L'oggetto Rappresentativo Verrà coperto Da un disco Colorato E E la copertina È molto È molto evocativo Nei tuoi testi Previsci Essere più longevo Come il classico italiano Che deve descrivere Oppure È un po' più sintetico È un po' più ermetico Ecco Ma sicuramente Penso che la mia scrittura Sia un po' cambiata Soprattutto da quando ho iniziato a collaborare con Ziba Perché Mi muovo per le immagini Se posso ti rubo ancora un minuto E ti dico una cosa Una delle cose più importanti che mi ha detto Ziba in questi mesi È Il riuscire a Raccontare le cose Da un punto di vista interno E Questa cosa mi ha molto svoltato Perché È come se appunto Io e te siamo qui a parlare Invece che Raccontare il fatto che io e te siamo qui a parlare Il gioco sta nel provare a immedesimarsi Nella sensazione O nella determinato Non lo so Nel caso della sensazione Dire bene Provo gioia Oppure Provo un po' di imbarazzo Bene Mi calo nel mio imbarazzo E racconto la storia Dal punto di vista dell'imbarazzo Oppure Se volessi dirlo Da un punto di vista dell'oggetto Bene Mi calo nel microfono Che tu per esempio hai davanti E racconto la storia Dal punto di vista del microfono Per esempio E Quindi È una cosa un po' difficile Che non ho ancora ben capito Come esprimere a parole Come il concetto In generale Però Mi aiuta È molto utile E invece la sensazione che hai provato Quando in cui A brano finito Di Parliamo di biglie Vedere le facce Di chi ha ascoltato Per la prima volta Il brano Più che Nelle parole Perché a volte Le parole Ma Proprio nei loro visi Qual è la tua sensazione Che hai sentito Che hai provato Vedendo le loro Espressioni Più che le parole È sempre Sempre molto bello Vedere che qualcuno Comunque Apprezza Quello che fai È una cosa Forse è il motivo Per cui alla fine Si fa musica In qualche modo Avere qualcuno Che percepisce Le stesse cose Che tu hai raccontato Che tu stai descrivendo Nel caso particolare Di biglie È strano Perché Diciamo È un pezzo Che si distacca Un po' Dalle sonorità Del disco precedente Quindi di Caleidoscopici E in generale Dalle mie sonorità Perché appunto È un pezzo reggae E quindi È stato buffo Vedere come Alcune persone Mi abbiano detto Guarda Il pezzo Mi è piaciuto un sacco Bello questo fatto Che hai cambiato Diciamo Completamente mood Però Sì Era insomma C'era chi discordà Cioè Chi era un po' In disaccordo Però in positivo Cioè Nessuno mi ha detto Appunto Non mi piace il pezzo Anzi Assolutamente Però è stato buffo Anche vedere Questo lato Per quanto La mia carriera Tra virgolette Sia Ancora all'inizio Vedere che Già qualcuno È affezionato Ha un mio modo Di scrivere E mi ha fatto sorridere Ecco Ci sono Quei artisti Che un pochettino In fondo È involontariamente Di porto Perché Noi lasciamo tutti Ascoltando musica Però Ti lo porti Un po' Un pochettino Dietro Ma Involontariamente In fondo Ognuno Ha le sovraccattristiche La propria voce Il modo di Improntare La musica Però In fondo Pochettino Ti ha influenzato O ti influenzerà Sì sì Quello Sicuramente Ma Appunto Dal punto di vista Storico Proprio Che ci sono cresciuto Ti dico I cantautori Nel senso che De Andrè In realtà è stata una scoperta Quasi adolescenziale Però Ci sono molto legato Quindi A livello di testi Sicuramente Poi vabbè Francesco De Gregori E Lucio Dalla Però sono Non so come dire Sono ascolti Più che riferimenti Sì qualcuno mi ha detto Guarda mi ricordi Particolarmente Non lo so Bruno Rissass O Queste cose Cioè qualche altro Autore Però più che dire Diciamo Pensare A un riferimento Diciamo A un modello A cui Ispirarmi Forse sì Sono più che altro Tanti Tanti ascolti Che mi tornano Che mi tornano alla mente O mi fanno Mi fanno un po' riflettere Per esempio In questi giorni Ci stavo giusto pensando Al fatto che da piccolo In salotto In casa mia Ascoltavo un sacco Di giovanotti E in particolare Mi viene in mente Fango Che in questi giorni Appunto ci stavo ripensando Fango di giovanotti E Un pezzo che suonava Ancora mio padre Quando eravamo piccoli Montagne verdi Di Marcella Bella Te ne dici Cioè capito Cioè Quindi Una serie di cose Un po' Sporadiche E Però Alla fine Mi fa riflettere Come tutto Bene o male Anche se Uno se lo dimentica Torna Torna alla mente Anche quando Non se lo si aspetta Ecco Senza Spoilerare Il disco Che è in uscita Ci sono Aneddoti particolari Che c'è Nella realizzazione Di questi cinque brani Se poi in realtà È un concept Oppure in realtà Sono brani Che comunque Un poettino Hanno quella linea Ma Il tema Si discosta Allora E È buffo Perché di nuovo Nasce un po' Tutto dal caso Cioè Nasce tutto I pezzi Non sono nati A monte Non sono partito Da un'idea Che li potesse collegare No Però Siccome sono nati Nell'arco Di cinque mesi Mi sono ritrovato A A Sperimentare Una cosa Che non avevo mai Sperimentato Ovvero Il fatto di Riuscire Ad associarli Ad un Preciso Momento Dell'ultimo Diciamo Anno Che io ho vissuto E quindi Legarlo In particolar modo A situazioni E persone Che Diciamo Fanno parte Della mia vita No E E quindi Diciamo È bello Vedere come Potrei dire Così Diciamo Oltre a essere Un album Diciamo Musicale È anche un album Fotografico Per me Perlomeno Cioè Associo molto Delle immagini Quando mi Mi metto A cantare O a suonare Appunto I pezzi Del disco Li associo Particolarmente Delle Delle situazioni Che Che mi rimandano Al momento In cui Le ho scritte O al momento In cui Mi è venuta L'ispirazione Per scriverle E quindi Mi fa sorridere Questa cosa È molto Molto Bella E quindi Per concludere Il tutto Il titolo Del disco Che appunto Non c'è nulla Da nascondere Alla fine Risulta perfetto Anche calzante Con questo Discorso Che ti ho appena Fatto Cioè Una serie Di ricordi Una serie Di Così Di relazioni Di situazioni Che Appunto Non ho nascosto E E Non sono Da nascondere Quindi Una quotidianità Che Emerge Così Dalle piccole cose Questo Disco Di 5 brani Sarà Solo in Formato Digitale Oppure In un futuro C'è la possibilità Di vedere Anche in Formato Fisico Per Noi Chi lo sa Chi lo sa Diciamo Per ora Nel Nel breve Periodo Non Non lo farò In formato Fisico Anche perché In formato Fisico Ho Il disco Precedente E Qualcune Copie Diciamo Molto Non ho Grandi numeri Però Qualche copia Da dare ai concerti Giusto così E E quindi Insomma Vedremo Vedremo Se in un futuro Si farà Una copia Fisica Di Questo disco A questo punto Progetti futuri Oltre chiaramente Attendendo L'uscita Del Del Disco Del Secondo Disco Quali sono Eh Periodi futuri Allora È un periodo Bello Bello Pieno Perché Diciamo Oltre Diciamo Il percorso Artistico Sto Per laurearmi Nel senso che A metà novembre Dovrei Laurearmi Quindi Tipo Tipo la settimana Prima del disco Dovrei discutere La La tesi di laurea È un periodo Molto Molto Complesso E E dopo Dopo la laurea Se tutto va bene Dovrei Insomma Se Se Mi ammettono E se mi prendono Dovrei andare a una scuola d'arte Giù a Roma Però ci sono delle selezioni Quindi Si vedrà E poi Chi lo sa Scrivere Si Si continuerà a scrivere Insomma Non ho nuove idee In questo momento Però Arriveranno Ne sono fiducioso A questo punto Dando Noi ti ringraziamo E sei stato ospite Ci mancano due cose fondamentali Gli indirizzi Dove poterti raggiungere E I Saluti finali Certo Allora Mi trovate Su Spotify Come Michele Bisio Su Instagram Come Michi Punto Bisio E E questi diciamo Sono i canali principali E Per il resto Niente Ti ringrazio Perché appunto Mi hai dato Un bello spazio Mi sono Molto divertito A fare questa chiacchierata E Ringrazio tutti gli ascoltatori Che Ci ascolteranno E ci vedranno E Un abbraccio a tutti Veramente È stata una bella chiacchierata Ore di campione Piero di energie Il sport piceno game Ci porta In una nuova dimensione Con passione e coraggio Siamo pronti a brillare E studio sette tv Ci guida ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio e con onore Siamo pronti a dare Il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito Non serve Siamo pronti a dare Siamo pronti a dare Siamo pronti a dare Ad affrontare Siamo pronti a dare